Mille persone evacuate a San Clemente sulle colline riminesi per il disinesco di una bomba inglese da 500 libere della seconda guerra mondiale. Decine di persone sul campo per garantire la sicurezza, pronte a intervenire per ogni evenienza. Abbiamo qui il genio ferrovieri, l'amministrazione comunale, i volontari della protezione civile, la USL Romagna, il 118, Croce Rossa, i servizi pubblici essenziali. È una macchina molto molto complessa. La prefettura di Rimini ha coordinato l'intervento, lo scenario quello ormai consolidato, strade chiuse dalle prime ore del mattino, base il centro operativo comunale con sindaco, forze dell'ordine e dell'esercito, gli uomini del comando forze operative nord di Padova e del reggimento genio ferrovieri di Castelmaggiore nel bolognese che hanno effettuato le operazioni di disinesco. Di bombe d'aereo di questa tipologia quest'anno ne abbiamo fatte ben otto in la nostra area di competenza, che comprende ben 11 province nella regione Marche, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Altri 700 interventi sono stati compiuti sempre in questa area di competenza, ma per ordini di dimensioni più limitate. Tra le persone evacuate anche Livia e Chiara, 83 e 98 anni. Noi le vedevamo cadere, le vedevamo. Adesso è tutto finito, si torna a casa. No, non vedo l'ora che sia tutto finito, voglio tornare a casa perché sono stanca.